Il commissario straordinario Figliuolo ha reso note le forniture dei vaccini che verranno distribuite in Italia nelle prossime settimane. Per le Marche sono previste 210.000 dosi che arriveranno nel mese di aprile. Intanto proseguono i richiami e il recupero delle somministrazioni. Su 133.020 diritto, fino ad oggi, hanno ricevuto il vaccino circa 75.000 persone, altre 6.000, nelle case di riposo. Da due settimane poi si è partiti quelle persone estremamente vulnerabili in dialisi, trapiantati o in attesa di trapianto. L'arrivo delle fiale di Pfizer e Moderna ha consentito di vaccinarne più di 1.600 su una platea di 250.000 e con la prossima fornitura, nella prima metà di aprile, verrà aperta la prenotazione per la fascia di età 70-80 anni. Seguirà quella degli over 60 e proprio in questi giorni si stanno decidendo le date precise. L'andamento del prossimo mese, ha spiegato l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, sarà ancora molto debole. Infatti, con 210.000 dosi si potrà completare il ciclo per 100.000 persone. Probabilmente, ha proseguito, solo a maggio-giugno sarà possibile consegnare direttamente i vaccini nelle fabbriche e alle associazioni che hanno aderito all'accordo proposto dalla Regione. In ogni caso, nelle fac dell'Azur, Area Vasta 1, si precisa che le fiale di Pfizer e Moderna verranno riservate principalmente alle persone estremamente fragili. Al punto di vaccinazione, il medico valuterà le condizioni di salute dell'utente che indicano l'uso di uno specifico vaccino. In mancanza verrà utilizzato quello con maggiore disponibilità. Il cittadino potrà accettare firmando il consenso oppure potrà rifiutare, ma non scegliere il tipo di vaccino. Inoltre, il distretto sanitario garantirà la vaccinazione domiciliare degli ultraottantenni, il cui medico di medicina generale non aderisce all'accordo. L'avvio dell'attività avverrà non appena arriveranno le dosi. Sul sito, inoltre, si precisa che chi ha contratto il coronavirus può sottoporsi alla vaccinazione, ma ad almeno tre mesi di distanza dall'infezione e, preferibilmente, entro i sei mesi dalla stessa. Invece, se qualcuno, dopo la prima somministrazione contrae il Covid, non deve ricevere la seconda dose, ma verrà preso in carico per la gestione del richiamo. Tutte le prenotazioni possono essere effettuate sul portale di posti italiani, indicato anche sul sito dell'Azur e della regione, oppure tramite il numero verde 800 00 99 66, ma è attivo anche un altro numero che non serve per prenotarsi, ma soltanto per avere informazioni, ed è l'800 93 66 77. È operativo dalle 9 alle 12, dalle 13 alle 18, tutti i giorni, compresi festivi e prefestivi. Infine, dagli uffici dell'area vasta, ci hanno precisato che quando si prenota è fondamentale inserire un numero di cellulare attivo sul quale verranno inviati sms con informazioni ed eventuali comunicazioni. È successo, infatti, che qualche over 80 ha chiesto ai patronati o ad alcune associazioni di procedere per conto loro, ma poi i numeri inseriti nel portale non sono risultati accessibili perché non corrispondenti agli anziani prenotati. Ecco perché in tanti non hanno ricevuto nei giorni scorsi il messaggio di disdetta. Intanto l'area vasta ha affidato al CUP l'incarico di contattare chi si è visto annullare la seduta a causa dello stop temporaneo di AstraZeneca.